Ehi, a tutti quelli che sostengono le autoproduzioni, qui potete trovare vari lavori, tra cui il mio, Ritewood. Il nuovo disco di Baracca lo potete trovare sempre qui, quello di Magno, ma perché? A tutti quelli che sostengono le autoproduzioni. Ehi, a tutti quelli che sostengono le autoproduzioni. Dammi te, dammi te ancora, dire che la musica a me passa, dammi te, dammi te ancora, parca la situazione giusta, dammi te, dammi te ancora, che la demonica se posa, il meglio giorno passa, mostaci la villana! una cosa chiamata original line center una cosa chiamata Buonasera a tutti quelli che sono venuti qui, nonostante il tempo, nonostante la pioggia, anche da adesso è uscito un po' di sole. E allora, adesso lo stanno in time di Golden Crew Ciné, Miss Barbaranx, on the console. A tutti i tuoi corti, tirato da Cristine. A tutti i tuoi corti, tirato da Cristine.